bella questa sport utility ford è una eco sport mille benzina del fine ottobre 2019 euro 6 di tempo quindi l'ultimissima generazione per quanto riguarda l'impatto ambientale sempre più richiesto questi piccoli benzina in sostituzioni dei diesel proprio per un problema di circolazione cittadina eccola qua auto praticissima molto comoda adesso oltretutto con questo bel portellone che si apre lateralmente per far accedere a questo grandissimo baule vano carico veramente generoso poi questa forma squadrata da veramente modo di sfruttarlo al meglio come possiamo notare i sedili posteriori sono sdoppiati e abattibili piccolo vano carico anche qui sotto andiamo ad apprezzare gli interni allora come possiamo notare un cinque posti i sedili sono in misto pelle quindi pelle lateralmente mentre la seduta e lo schienale in tessuto traspirante al centro vetri elettrici anche posteriori auto veramente ben tenuta che si può proprio notare in tutti i suoi particolari anche il pannello con questi inserti in pelle sedili regolabili in altezza ad apprezzare subito i chilometri 47 mila e cinquecento in questo momento ecco qua ci ricorda che siamo su una bella ford l'avviamo con il tasto e la chiave in tasca ecco qui andiamo a visionare che tutto quello che è la disponibilità in questo bel display touch tutto a portata di dito a radio telefono e via dicendo tutto estremamente comodo climatizzatore ovviamente automatico poi ovviamente le nostre porto usb il cambio è un manuale a sei rapporti auto veramente comoda fatta per essere sfruttata al meglio ovviamente abbiamo poi qui al centro il nostro display dove poter tenere tutto sott'occhio comandi al volante con curis control volante in pelle insomma auto veramente veramente bella bella e fruibile eccolo qua come tutte le nostre auto sono certificate nei chilometri nei tagliandi e le manutenzioni dichiarate in fattura possibilità di finanziamento ma a vostra discrezione possibilità di aggiungere anche oltre al consueto anno di garanzia anche un secondo anno veniteci a trovare per poterla provare e vedere di persona alla prossima